La logica che caratterizza la filosofia severiniana è dialettica e ontologica, contraddistinta dall'olismo semantico ed è l'unica logica possibile. La logica dialettica severiniana è in contrapposizione con quella formale, che non può essere valida, per almeno i motivi che andrò a esporre in questo video. Innanzitutto, la logica formale si pone già in una forma di contraddizione nella misura in cui si pone come astratta e quindi come slegata da una qualsiasi dimensione ontologica. In una condizione del genere, porrebbe i suoi contenuti, i suoi elementi come non identici a sé, perché per essere identici a sé, gli elementi in questione richiedono di essere ontologicamente identici a sé, e non solo logicamente identici a sé. Se infatti l'identicità di questi elementi con loro stessi fosse posta solo a un livello logico astratto, questo non sarebbe sufficiente a escludere proprio all'interno di questi sistemi logici astratti la possibilità non solo assurda e contraddittoria che essi equivalgano a un albero, a un sasso, al nulla che non esiste e così via. Appunto, una possibilità assurda e contraddittoria, ma anche la possibilità che essi equivalgano a qualsiasi altro elemento all'interno del loro dominio, all'interno del loro campo, rendendo quindi indeterminata la struttura sintattica e semantica di questi sistemi logici, e quindi compromettendo completamente la possibilità stessa dell'aversi di una logica siffatta, così astratta. E' indubbio che gli elementi della logica formale, e quando parlo di elementi mi riferisco a tutti i suoi aspetti strutturali costituenti, quindi le regole di inferenza, i principi, i simboli e così via, tutto ciò che contiene la logica formale, richiede di essere posto come qualcosa di determinato, e questa determinatezza non può prescindere dal porre questi elementi come identici a sé e differenti da altro. E questa condizione non può essere solo astrettamente logica, perché come è stato spiegato prima, questo non escluderebbe la possibilità ontologica e anche logica della loro equivalenza a qualsiasi altro elemento, non solo al di fuori della logica, ma anche interno alla stessa logica, rendendo quindi tutto indeterminato al suo interno. E' indubbio che se non si ponesse questa condizione non si porrebbero neanche questi elementi, perché condizione indispensabile per porli è che siano identici a sé e differenti da altro. Questa è la condizione primaria, potremmo dire principale, per il porsi stesso di questi elementi e della loro funzione sintattica, che sarebbe compromessa se non fosse determinata la loro identità. Dunque, già il porre questi elementi come astratti e slegati della dimensione ontologica pone la logica formale in questa situazione contraddittoria. Da una parte non si può fare a meno di porre quegli elementi come identici a sé, ma questa condizione richiede già assunzioni ontologiche. Quindi una logica formale, in quanto astratta, è già contraddittoria, si sta già ponendo e configurando come una forma di contraddizione eclatante. Poi, un'altra differenza riguarda la differenza tra la logica rigorosissima severiniana di tipo dialettico e quella formale, il fatto che la seconda sia isolante, escluda l'olismo semantico, sia in contrapposizione all'olismo semantico che caratterizza la filosofia dialettica severiniana. E questo è un altro problema a sfavore della logica formale. Infatti, una logica isolante, come quella di cui è intrisa quella formale, pone tutti i suoi elementi come autonomi, indipendenti dal rapporto con gli altri elementi, da un punto di vista semantico e alla fine poi anche sintattico. Perché poi i due aspetti, le due dimensioni, sono imprescindibili. Qualcosa è determinato sintatticamente se lo è semanticamente e viceversa. Non c'è una principalità di un piano rispetto all'altro. I due piani non possono che essere cooriginari. Quindi, la semantica implica già una dimensione sintattica, perché implica già un rapporto di determinazione tra i suoi elementi, tra i significati dei suoi elementi, che quindi implica già una struttura logica, perché il rapporto in questione è di differenza, e il rapporto di differenza implica già una dimensione logica. quella del principio di opposizione, che è un principio logico e anche ontologico. Il principio di opposizione è la sintesi tra il principio di identità e quello di differenza, ed esprime la cooriginalità di questi due tratti, per cui non si può avere l'identità di qualcosa con sé senza il suo differire da altro e viceversa. Anche qui non c'è la principalità di un aspetto in riferimento a un altro, ma c'è la cooriginalità, tale per cui l'uno non sussisterebbe senza l'altro, solo stando assieme originariamente, entrambi sono, altrimenti nessuno dei due tratti può essere. Ora, come detto prima, rinunciando alla dimensione ontologica, nella logica formale si rinuncia, non si può non rinunciare a porre qualsiasi suo elemento come ciò che è. Si dovrebbe rinunciare ad affermare che una qualsiasi regola di inferenza sia ciò che è. Ad esempio, che il modus ponens sia modus ponens. Non si potrebbe dire che il modus ponens è il modus ponens, non si potrebbe dire che il modus tollens è il modus tollens, e che il modus ponens non è il modus tollens se si rinunciasse alla dimensione ontologica e quindi alla condizione ontologica di cui si è parlato prima. Poi, come ha mostrato Severino, una dimensione astratta sarebbe anche slegata dalla dimensione fenomenologica. E quindi che in una dimensione astratta gli elementi posti in un certo modo siano identici a loro stessi e si mantengano come stato stabilito è un'ipotesi, perché non apparendo un'evidenza del genere sarebbe comunque un'ipotesi. Severino può sembrare pedante, pignolo, ma ha indiscutibilmente ragione, voglio dire, se non appare l'evidenza di qualcosa, quel qualcosa è un'ipotesi, non può essere una verità. E invece trattare un'ipotesi come verità, anche se a livello implicito, è comunque una forma di contraddizione perché un'ipotesi non è una verità e trattare un'ipotesi come una verità vuol dire, implicitamente, negare il suo carattere di ipotesi. E quindi trattare un'ipotesi come una verità vuol dire non riconoscere l'identità dell'ipotesi in quanto ipotesi e non riconoscere l'identità della verità in quanto tale. Altra parentesi. La verità, nella ontologia severiniana, si configura come ciò che mostra la negazione delle sue negazioni. La verità, il rapporto dialettico con la sua negazione, è l'unica possibile verità. Perché non mostrando la impossibilità di essere negata, non mostra di essere incontrovertibile. E il carattere peculiare della verità è proprio di essere incontrovertibile. Una verità che non fosse incontrovertibile sarebbe un'ipotesi. Ed è scorretto e fuorviante trattare altrimenti un'ipotesi. Ciò che non mostra in modo originario il fatto di essere una verità incontrovertibile non è una verità. E non può esserlo. Il carattere quindi principale della verità, quello essenziale, è mostrare l'impossibilità della sua negazione. Come? Nel concreto, mostrando l'autonegazione delle sue negazioni, cioè delle ipotesi contrarie ad essa. Ancora più nel concreto, come? Mostrando che tutte le possibili ipotesi alternative a una certa verità la debbano assumere come vera per provare a negarla e per porsi. Mostrando quindi, in maniera certa, incontrovertibile, che quella sia effettivamente una verità. Se anche l'ipotesi opposta a una certa verità deve assumerla come vera per provare a negarla, è certo che tutte le infinite altre prospettazioni non potranno fare altrimenti. E quindi, se tutte le infinite prospettazioni possibili e immaginabili non possono fare a meno di assumere una certa verità per provare a... a porsi non solo a negarla, ma proprio a porsi a prescindere da quella verità, dal tentativo di negarla, questo dimostra che quella verità è vera in modo incontrovertibile perché significa che non può esserci nessun caso in cui sia falsa. Se tutte le prospettazioni infinite, possibili, immaginabili non possono fare a meno di assumerla come vera, vuol dire che è impossibile che la si neghi perché per negarla un tentativo della sua negazione dovrebbe negare il suo stesso fondamento sprofondando nell'autonegazione e quindi annullandosi e non riuscendo quindi comunque a negarla, di conseguenza non potendo esistere nessun caso prospettato da nessun tentativo di negazione di una certa verità capace di negarla, vuol dire che nessun caso per il quale quella verità sia falsa è possibile e quindi se nessun caso in questione è possibile vuol dire che quella verità non può non essere vera perché non può essere falsa. Questo nel concreto è il toglimento originario delle negazioni della struttura originaria da parte della stessa struttura originaria e qui ci si collega un altro aspetto ovvero l'olismo semantico un principio come quello di opposizione se considerato erroneamente nella sua forma astratta come avviene nella logica isolante formale non avrebbe la possibilità di mostrare in sé isolatamente la negazione delle sue negazioni ma può farlo solo in una struttura logica argomentativa appunto l'elencos severiniano che riprende quello aristotelico l'elencos aristotelico è la forma più vicina al rigore della filosofia severiniana perché è quella forma di logica dialettica in rapporto con la negazione di una certa verità di un certo principio e l'unico modo per rendere rigoroso al massimo livello l'elencos aristotelico è di porre la struttura come fondamento non il principio perché il principio come fondamento sarebbe isolato dalle ragioni logiche della sua incontrovertibilità l'unica possibilità di avere un fondamento incontrovertibile è che il fondamento sia una struttura dunque da una parte è un'esigenza che vi sia un fondamento incontrovertibile perché come detto in diverse occasioni senza un fondamento incontrovertibile un qualsiasi sistema logico privo di esso sarebbe controvertibile in ogni sua parte perché la necessità e l'incontrovertibilità delle premesse di un argomento all'interno di un qualsiasi sistema logico può avere al massimo lo stesso grado di cogenza e di necessità del suo fondamento per cui se il fondamento fosse ipotetico le premesse che vi si fondassero sarebbero al massimo ipotetiche tanto quanto il fondamento stesso e lo stesso varrebbe per le condizioni e le regole di quelle logiche per cui al massimo sarebbero valide in modo ipotetico le regole e le condizioni di una logica priva di un fondamento incontrovertibile per quelle stesse regole per quelle stesse logiche quindi da una parte è un'esigenza incontrovertibile che per avere un sistema saldo solido da un punto di vista logico debba essere garantita in maniera certa incontrovertibile la funzione sintattica di tutte le sue regole di tutti i suoi principi che se fosse invece ipotetica questa natura questa struttura sarebbe ipotetico tutto quello che andasse ad articolarsi attraverso tali strumenti tali principi tali regole e sovente le obiezioni di stampo analitico alla filosofia severiniana si limitano a contrappore alla filosofia severiniana i principi della logica esolante che sono messi in discussione della filosofia severiniana e nella misura in cui si ricorre a degli strumenti e dei principi che la filosofia severiniana mette in discussione e richiede che siano giustificati e dimostrati per poterli usare contro di essa e li si usa contro di essa senza fare queste operazioni si va incontro a una clamorosa petizione di principio nella quale appunto si assume quello che si dovrebbe dimostrare si assume come vero come come valido come metro di valutazione e di misura della bontà e della validità di una filosofia quell'insieme di strumenti che quella filosofia mette in discussione in quanto ne mette in discussione l'insieme di premesse nichiliste della logica isolante allora ritornando alla questione dell'olismo semantico senza una struttura un principio non può essere capace di mostrare l'autonegazione delle sue negazioni e senza questa condizione non può apparire incontrovertibile non può esserlo quindi l'unico modo per avere un fondamento incontrovertibile è che sia una struttura originaria come quella che appunto caratterizza la filosofia severiniana il cui piano logico risiede nella dimensione della sintesi originaria che non corrisponde con il piano della discorsività della sua esposizione perché nel piano della esposizione vi è un apparire in sequenza di diversi termini uno dopo l'altro che non corrisponde all'ordine logico della sintesi originaria della struttura in questione nella quale i termini non vengono uno prima dopo l'altro ma assieme sono tutti cooriginariamente congiunti in una certa struttura in un certo ordine logico dunque senza questa struttura l'incontrovertibilità non è possibile senza l'incontrovertibilità vi è infondatezza che pregiudica qualsiasi logica che rimane sprovvista di un fondamento incontrovertibile come completamente ipotetica controvertibile non capace di mostrare la necessità intrinseca delle sue regole capace solo di dimostrare anzi di pretendere di dimostrare la necessità relativa relativa delle sue condizioni che non è messa in discussione qui non si misconosce il fatto che vi siano delle esigenze relative all'interno delle logiche sprovviste di un fondamento incontrovertibile si mette in discussione che siano sufficienti delle necessità relative per confermare a la validità di quelle regole la loro determinatezza se non si esclude la possibilità che ogni elemento di una certa logica quindi ogni regola ogni principio equivalga alla sua negazione si sta già facendo un salto logico ingiustificato si sta già mettendo una toppa a una lacuna che decreta una condizione indeterminata irrisolvibile di quelle logiche quindi la logica severiniana è l'unica possibile ed è la condizione di possibilità per esprimersi di una qualsiasi altra logica chiaramente in astratto perché poi in concreto tutte le logiche alternative non sono contemplate non sono contemplabili perché affermando un qualcosa di diverso dall'olismo semantico e affermando una forma di logica isolante andrebbero incontro allo stesso fondamento implicito e quindi si porterebbero in una forma di autonegazione di autonegazione di autonegazione